Allora ragazzi, benvenuti in questa nuova scheda personaggio. Oggi trattiamo Escanor Supremo, personaggio forte, se possiamo dire così. Ora, prima di iniziare vi invito a iscrivervi, lasciare un bel mi piace, se volete venirmi a seguire in live mi raccomando tutti i link sono qua sotto. E nada, dai, iniziamo. Escanor Ultimate, razza chiaramente umano, attributo luce, inaspettato, rilasciato il 29 di novembre come fest del 3.5 anniversari. Chiaramente 900 lui garantito, solo lui come garantito a sto giro, il che ci sta anche. Come statistiche di base non è messo per niente male, ha praticamente un Pierce del 90%, chiaramente a livello 1. Possibilità 110 e danno critico 180. Quindi, vabbè, le difese le lasciamo stare ma sono tutte superiori al 60%. Per niente, per niente, per niente, per niente, male. Poi, abbiamo direttamente l'abilità, che direi di andare a leggere, bruciatura pari a 200, 300 e 500%, quindi il danno è lo stesso di inondazione. Qual è il fatto? Il fatto è che bruciatura fa l'1.3 di danni aggiuntivi, per cento chiaramente, per ogni percentuale dei PS rimanenti. Cosa vuol dire? Vuol dire che più vita avete in percentuale, più farà danno questa mossa, di danni aggiuntivi, ovviamente. I danni aggiuntivi sono pari al 30% dei danni finali su tutti i nemici. Quindi, cosa succede? Succede che voi andrete a fare un single target, ma la seconda ondata che arriva, perché si è diviso praticamente in due parti, la seconda ondata sarà AoE, il secondo colpo sarà AoE. Ed è molto utile per robe che dopo vedremo, ma anche solo semplicemente per il farming. Poi, abbiamo un attacco AoE, 120, 180 e 300, dominazione. Cosa fa dominazione? 0.8% danni aggiuntivi per ogni percentuale di PS mancanti. Danni aggiuntivi, ovviamente, pari al 35% del danno, critico meno 100%. Quindi, diciamo, è un po' la stessa roba del fendente, dai. Non è male. Va da sé che, per aumentare i danni il più possibile con questo attacco, bisogna usarlo quando si ha poca vita. Quindi, in genere, per quella che è la mia esperienza, come si procede, almeno in PvP. Si va ad utilizzare il single target e poi, successivamente, se viene rimossa una quantità di vita ingente, diciamo, quindi superiore magari al 60%, quindi si rimane col 40% di vita o meno, si va ad usare questo attacco e fa un sacco male. Ma lo vediamo dopo. Poi, abbiamo la ulti. Cosa particolare che è anche la prima volta che succede, è il cambio della ulti, anzi, l'aggiunta di una passiva particolare, a seconda del livello della ulti. È interessante come meccanica, ci può anche stare. Leggiamola. Allora, la ulti di per sé infligge danni in molazione, 500% all'uno e AOE, ovviamente. Immolazione non è nient'altro che lo 0.2% di danni aggiuntivi per ogni percentuale dei PS rimanenti dell'eroe e 0.2% sempre di danni aggiuntivi per ogni percentuale dei PS ridotti. Quindi, sia che abbiate, diciamo, PS alti o bassi, avrete comunque uno 0.2 di danni aggiuntivi, diciamo. credo che sia praticamente un 100% alla fine, calcolato sul 100%, perché calcola i PS rimanenti e quelli che mancano. Il totale è un 100%, quindi, diciamo di sì. Poi, la parte che vi dicevo che cambia è questa. Quando l'eroe muore, questa fa parte, è una passiva della ulti che va praticamente ad aggiungersi alla vostra passiva che leggiamo dopo. Quando l'eroe muore, rimuove tutti gli effetti, quindi avrete immunità, svuota completamente la barra mossa finale, poi applica un effetto fiamma definitiva. Ok? Cosa fa fiamma definitiva? L'effetto è particolare ed è il seguente. Viene rimossa quando vengono subiti i danni, quindi ogni qualvolta vi attaccano una fiamma definitiva viene rimossa. Oppure quando si usa un'abilità. Quindi ogni qualvolta vi attaccano, si usa un'abilità, viene rimossa. Ma che cosa fa, appunto, dicevo, la fiamma definitiva? Praticamente i PS dell'eroe sono fissi a 1, rendendolo immune a tutti gli effetti. Che cosa vuol dire in soldoni? Vuol dire che ogni qualvolta noi veniamo uccisi da un attacco, da un counter, qualsiasi cosa. La vita viene fissata a 1 e ci viene messa una fiammella sulla testa, ok? Se prendiamo altro danno o attacchiamo via una fiammella, cosa cambia col livello della ulti? Le fiammelle che ci sono sulla testa riescano. Tra l'altro non possono essere rimosse con... Cioè non sono debuff blu. Buff blu, quindi... E poi nel caso anche comunque se vi attaccassero andrebbero via lo stesso. Quindi non è quello il punto. Il punto è che siete praticamente immortali a seconda di quanto avete la ulti alta. perché vi ricordo che l'attacco di prima o è tra l'altro scala con i PS che mi mancano quindi capite bene che se ve lo tenete per quando morite non è per niente male. Comunque sia, le fiammelle a livello della ulti cambiano con la ulti al 2 cioè avrete due fiammelle al 4 ne avrete 3 e al 6 ne avrete 4. Ora vi lascio fare i vostri conti ma capite bene che in PvP se lo ha sia maxato io credo non ci sia modo di perdere. Quindi hanno fatto la porcheria sto giro. La passiva normale ragazzi è lunga ma non è nient'altro che un buff su se stesso alla The One. Ora la leggiamo. Applica fiamma sacra che cosa fa fiamma sacra? Aumenta tutte le stat del 4% col passare di ogni turno per 5 turni quindi è un buff permanente praticamente all'inizio della battaglia quindi già questo è un grande aiuto. Poi aumenta del 15% i danni inflitti dall'eroe dopo aver usato un'abilità fino a 4 volte. Tutte le statistiche dell'eroe non scendono al di sotto dei loro valori all'inizio della battaglia quindi debuff tipo Brunilde non funzionano. quando subisce danni fatali le statistiche relative all'attacco dell'eroe aumentano del 30%. Una passiva che si può usare ovunque ma lui deve essere ovviamente presente in campo. Che dire è veramente sbroccato in modo offensivo grazie diciamo al 90% a questa passiva ma anche in modo difensivo se ci pensiamo grazie alla parte di passiva dentro la ulti. Quindi questo è il personaggio in soldoni. È abbastanza rotto parliamo un attimo di dove usarlo come usarlo le stat gli equip eccetera. Allora come vedete dalla tabella in basso a sinistra chiaramente nuovo personaggio da CC nuovo personaggio offensivo non c'è letteralmente nessuno che ha più potenza offensiva di lui in gioco ad oggi. Come equipaggiamento anche qui dobbiamo parlarne un attimo so che verrà una scheda un po' lunghetta ma è particolare il discorso in teoria non cambia molto da quello che vi dico sempre quindi se uno può permettersi di avere magari le armi di Escanor tutte quante ha senso farlo vita difesa vita danno critico sono molto intercambiabili qual è il fatto è che in pvp soprattutto nell'ultimo periodo ma con questo personaggio ancora di più se si parte per secondi si perde a meno di non averlo maxato con la ulti alta che allora ti dà più sopravvivenza ma se no si perde ragazzi non c'è un cazzo da fare quindi piuttosto che farlo attacco critico che adesso ne parliamo fatelo vita difesa o vita danno critico per prendere un po' di cicimpio io vi consiglio quello ovviamente in pve non ha senso questo discorso quindi per farming per boss se lo volete usare nel piccione mettete un attacco danno critico che lo avete quasi sicuramente perché Escanor the one andava buildato così praticamente quindi questi sono gli equip come valutazioni in modo generico e consigli vari allora demoni lo potete usare un po' dove volete perché tanto è attributo luce quindi non ha restrizioni usatelo nel crimson nel rosso anche se devo dire che ormai quei demoni lì si fanno veramente ad occhi chiusi con qualsiasi personaggio che va a vantaggio colore vantaggio attributo quindi non è un problema valutazioni pvp sss chiaramente parliamo di personaggi maxati con tutti i crismi non si può battere poi ovvio che si può ma nel senso è talmente forte se è maxato che non c'è un escamotage vero e proprio se non di sigillargli l'attacco però anche lì lo sigillate una volta poi se lui attiva le fiammelle del caso non lo potete nemmeno più sigillare perché ha l'immunità quindi è un problema pve si becca un ss comunque perché è un ottimo personaggio non sss forse perché non baffa il team e per il pve solitamente è un'ottima cosa parlo di piccione uccello piccione uccello sono lo stesso piccione cervo eccetera è ottimo anche in quei contenuti ma secondo me ci andava un guizzo in più magari non solo su se stesso ma sul team ma è giusto che sia così perché è un personaggio che è escanor lo conosciamo non baffa il team però è comunque un voto altissimo sub si becca b perché non ha senso tenerlo dietro punto farming ss si becca ss risultando tra l'altro uno dei un ottimo uno dei migliori magari sì vabbè uno dei migliori per farmare perché comunque lui è boostato un sacco grazie alla sua passiva e il single target in realtà fa danno anche a oe quindi per tutti quei contenuti dove non ci sono nemici così resistenti un a oe bronzo va comunque a shottare tutto il team avversario il che è ottimo è veramente ottimo tra l'altro lui si potenzia ogni attacco fatto quindi è tanta roba come miglior voto chiaramente sss valutazione 10 su 10 chiaramente scenderà nel tempo ma ad oggi è un gran bel pg tutto lì ragazzi quindi ditemi la vostra cosa ne pensate riguardo la ultia l'integrazione con la passiva se secondo voi è una buona idea se ce l'avete se l'avete pullato e nada noi ci vediamo in un prossimo video o in live ciao belli ciao ciao ciao